Giuseppe Sibilli al centro del Bari ieri, oggi e domani. La rete della vittoria contro la Feralpi Salò, la nona in questo campionato, ha permesso al 27enne di Napoli di superare il fatturato sommato nel biennio precedente a Pisa, Ottoreti, e di confermarsi tra i leader tecnici della squadra di Beppe Iachini. Contro i Bresciani non avrebbe dovuto nemmeno giocare, complice un infortunio alla caviglia, rimediato sette giorni prima nel finale di partita con il Lecco. Invece Sibilli ha stretto i denti, confermato la sua disponibilità alle spalle degli attaccanti ed è stato glaciale nel trasformare il rigore che ha indirizzato verso la cassaforte del Bari, tre punti pesantissimi per avvicinare ulteriormente la zona playoff, ora a un solo punto. Marco Romizzi, suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Albino Leffe tra il 2018 e il 2020 in Serie C, racconta così le radici dell'attuale capocannoniere Biancorosso. Credo che ormai sia una conferma questo ragazzo su cui io ci avevo puntato già ai tempi della Lega Pro, ora sono contento che addirittura si parli già del suo possibile riscatto per l'anno prossimo e che stia comunque mantenendo a galla il Bari per la zona playoff. Mai in carriera tra i pro Sibilli aveva segnato così tanto in una singola stagione. Nelle precedenti esperienze con Pisa, Albinoleffe, Siracusa e Sicula Leonzio aveva giocato 208 partite segnando 32 reti e servendo 17 assist. A Bari è già a quota 9 reti e 3 passaggi vincenti in 23 partite di campionato, un percorso passato anche per un profilo multitasking sul terreno di gioco. Con Mignani prima, Marino poi e Iachini adesso, ha praticamente sempre giocato quando è stato a disposizione, saltando partite solo per squalifica e partendo dalla panchina in una sola occasione, a ottobre, sul campo della Reggiana. Alla sinistra, alla destra, trequartista, seconda punta, mezzala o addirittura centravanti, come nella partita di andata con il sutiro, il prossimo avversario del Bari. Il sabato a Bolzano, tutti elementi che hanno convinto il Bari a esercitare il diritto di riscatto per una cifra che tocca i 700.000 euro, bonus compresi, e con un contratto che dal prossimo primo luglio legherà Sibili al club bianco-rosso fino a giugno del 2027. Per avere l'ufficialità del tutto occorrerà attendere almeno la primavera, ma si tratta di certo di un investimento importante su un profilo gradito al DS Polito sin da gennaio del 2023, quando erano stati avviati i primi sondaggi sul suo conto e che nell'ultima sessione di mercato è stato cercato anche dall'Empoli in Serie A. Nulla da fare, Sibili è rimasto al centro del Bari e lì c'è da scommetterci, resterà per lungo tempo.